Grazie a tutti, commenta la serata Ciao, bello, ciao Ciao, ciao Ciao, bello, ciao Come vediamo avete scritto Cristiana? Non abbiamo scritto No? Va bene Ciao, bello, ciao Un commento alla serata? È stato bellissimo È stato bellissimo Era fredda Perché lui è fatto di compagno E può poter rinforzare con lui